lui lei mi chiede se vedo altre persone cosa dire allora può succedere che una persona allora che può essere sia un ex talvolta questa domanda la fanno gli ex talvolta la fanno persone che hai conosciuto da poco tempo ti dice se ti chiede se vedi altre persone allora che cosa dire come gestire la comunicazione allora c'è a dire questo bisogna ovviamente scindere tra se questa domanda proviene da una persona nuova che è conosciuto o se proviene da un ex che magari si è allontanato ti ha lasciato allora se proviene da una persona nuova che conosciuto diciamo che è che a te interessa questa persona devi semplicemente dire questa frase che è molto interessante ma io diciamo fin tanto che non c'è un impegno preciso con una persona non mi sento soprattutto se uno che ti dice io non voglio impegno ad esempio non mi sento impegnato quindi mi sento di conoscere di incontrare altre persone come immagino del resto farei tu che dici che non vuoi essere impegnato questo è molto importante poi di un'altra frase poi non mi piace parlare di un uomo con altri uomini di altri uomini ovviamente io sono una persona fedele quando c'è una relazione stabile non posso dare o promettere fedeltà alle persone che non che non vogliono impegnarsi però ripeto non mi piace parlarne e quindi chiudi la conversazione in questo modo e subito c'è beh ma io non vorrei vedere un'altra persona che vede e allora si tratta di una persona che dovresti comunque lasciare molto rapidamente perché è una persona che pretende da te fedeltà ma che dichiara apertamente che non che non vuole essere fedele beh tieni presente che non è una persona che merita sicuramente le tue attenzioni non merita sicuramente il tuo interessamento questo è un concetto fondamentale diciamo che poi c'è il caso in cui è un ex che ti fa questa domanda allora quando vuoi riconquistare il tuo ex e lui ti fa questa domanda significa che potrebbe avere un interesse nel tuo confronto ovviamente potrebbe essere semplicemente un interesse come dire non dato dal fatto che vuole prendere una relazione ma dal fatto che vuole assicurarsi che tu sia ancora disponibile ovviamente spesso qua si crea un dilemma no perché temi di perderlo rispondendo di sì e temi diciamo di essere data per scontata dicendo di no la prima cosa che devi capire è che questa domanda è un test è semplicemente un test un ex che fa questa domanda sta cercando di scoprire in quale stato emotivo ti trovi se ti trovi se ti trovi in uno stato di coinvolgimento oppure no quindi la risposta a questa domanda per lui gli consente di valutare l'equilibrio di potere quindi se tu vuoi riconquistare il tuo ex devi avere il controllo delle tue emozioni fondamentalmente e ridurre quindi gli errori e dimostrare una cosa fondamentale positività e fiducia in te stessa diciamo che le chiavi proprio per riconquistare l'ex da questo punto di vista sono positività e fiducia in te stessa e questo lo indurrà diciamo anche a dubitare della decisione presa vedendo che tu dai la miglior versione di te stessa sei la miglior versione di te stessa e quindi in questo modo cosa devi rispondere beh devi rispondere semplicemente un qualcosa del genere beh guarda non devi essere tu che frequenti altri ma altri che cercano te e quindi inizia a dire ma sai io ho tantissimi corteggiatori da quando ci siamo lasciati sembra che attiro gli uomini come non mai un sacco di uomini che mi cercano io però non dopo che è finita la relazione con te voglio prendermi giustamente un po' di tempo per valutare anche per non fare la scelta sbagliata e quindi no le persone vedo sì delle persone ma semplicemente in amicizia lo dico chiaro perché voglio prendermi tutto il tempo per diciamo capire esattamente quale potrebbe essere una persona giusta per me visto che ho la possibilità di scegliere che ci sono tanti uomini che mi corteggiano che mi desiderano che mi vogliono mi prendo giustamente il tempo per poter scegliere la persona che che potrebbe fare il caso mio perché guarda è veramente una cosa pazzesca come gli uomini si vede che sentono no che ecco quindi gli dice una cosa del genere e questo da un lato lo tranquillizzerà diciamo da un colpo a certo un colpo alla botte nel senso che magari crede che tu non non vedo altri uomini poi dall'altro gli fa capire che ci sono tanti uomini che comunque ti corteggiano che tu frequenti l'amicizia e come dire e non è detto anzi è molto probabile che insomma oggi o domani prima o poi potrà accadere che questi in qualche modo che troverai quello che in qualche modo possa piacerti quindi evidente che lui deve capire che tu possa partire per altri lidi possa sicuramente chiudere la storia e guardare da altre parti ecco questo è quello che devi fare direi che è sempre la soluzione migliore per poter raggiungere l'obiettivo di riconquistare ecco se questo video ti è piaciuto condividolo con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi anche sulla pagina instagram e su tiktok e iscriviti al mio nuovissimo canale esoterismo spiritualità con massimo tramasco ma anche a tutti gli altri miei canali crescita personale felicità benessere molto stima e ti ricordo che inoltre sui canali ti puoi abbonare abbonarsi è facile basta andare nella home page tastina abbonati che si avvicina al tastino iscriviti